Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Iniziamo parlandovi dei pazienti che sono stati dimessi dagli ospedali. Il numero è in aumento, 33 persone, 33 pazienti in più rispetto a ieri che escono e tornano dunque a casa. Calano anche i ricoveri complessivi, mentre nelle ultime 24 ore si registrano 50 nuovi tamponi positivi in tutta la regione. Ci sono però purtroppo da segnalare anche i decessi. Nelle ultime 24 ore sono 11 le persone decedute. In regione, intanto per fronteggiare l'emergenza sanitaria, sono arrivati 58 fermieri albanesi. I decessi odierni contano 11 vittime da coronavirus nelle Marche, 6 donne e 5 uomini morti. Il più giovane aveva 43 anni, mentre il più anziano aveva 89, tutti con patologie pregresse. Il totale aumenta a 845 decessi da inizio emergenza. Nella provincia di Pesero Urbino si contano 461 vittime. Sono 51 i tamponi positivi su 1.084 processati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Gores. Il totale dei positivi sale a 5.877 su 29.090 test effettuati dall'inizio dell'emergenza. Le persone dimesse guarite da coronavirus nelle Marche salgono nelle ultime 24 ore a 1.825, da 1.792 del giorno precedente, mentre i ricoverati complessivi calano a 862 rispetto agli 872 del precedente aggiornamento. Scende il numero dei ricoverati per covid-19 in terapia intensiva da 80 a 78 e in semi-intensiva da 188 a 181. I degenti in area post-critica sono 231, 232 il giorno precedente e 372 invariati quelli in reparti non intensivi. Attualmente sono 2.536 le persone in isolamento domiciliare. Sono invece 7.811 quelle isolati in casa, 24.951 complessivamente dall'inizio dell'epidemia. Dopo essere venuti in contatto con persone positive, 3.557 presentano sintomi, tra cui 1.281 operatori sanitari. I casi positivi nella provincia di Peser Urbino sono in testa con 2.347, segue Ancona con 1.760, Macerata con 932, Fermo 395, Ascoli Piceno 271, 172 extra regione. Nelle Marche è arrivata nel pomeriggio una task force sanitaria di 58 infermieri albanesi per rinforzare la capacità assistenziale sul territorio, in particolare nelle strutture residenziali e nelle case di riposo. La squadra di infermieri, che per la maggior parte parla italiano, è stata suddivisa tra le cinque aree vaste. C'è una buona notizia anche sul fronte dei tamponi. La Roche, che è la multinazionale svizzera, ha deciso di incrementare la fornitura dei tamponi per l'azienda ospedaliera Marche Nord. Sono già stati consegnati 53 kit per un totale di circa 10.000 tamponi, che diventeranno 14.000 con una ulteriore consegna prevista per il 24 di aprile. Lo rende noto la regione Marche. L'azienda, si legge, assicura continuità nelle forniture, sia per quanto riguarda Marche Nord, sia per il laboratorio di Ascoli Piceno, che già dispone dei quantitativi sufficienti per lavorare quasi al massimo della capacità produttiva. Un altro passo avanti molto importante, afferma il presidente della regione, Luca Ceriscioli, che ci consentirà di estendere ulteriormente l'attività diagnostica sulla popolazione e quindi di rafforzare al massimo le misure di contenimento, anche in vista dell'avvio della fase 2. Soddisfazione anche da parte del direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo. Eviteremo, a detto, di tornare ad avere alti picchi di contagiati nella popolazione. Un minuto di silenzio per ricordare le vittime di coronavirus. È stato osservato oggi all'inizio della seduta del Consiglio regionale delle Marche, che si è svolta in modalità telematica. L'iniziativa è stata promossa dal presidente dell'Assemblea Legislativa, Antonio Mastro Vincenzo. Già in precedenza, uno stesso momento di raccoglimento era stato dedicato dal Consiglio alle persone decedute a causa del virus, all'inizio della seduta del 6 aprile scorso, prima delle comunicazioni del presidente Ceriscioli sulla gestione dell'emergenza sanitaria nelle Marche. Un uomo di 48 anni è deceduto ieri sera intorno alle 22.30 dopo essere caduto dal quarto piano di una palazzina in via Togliatti a Fano. L'uomo, che era in forte stato di depressione per la perdita del marito, morto a causa di un tumore nel gennaio scorso, ha scavalcato la balaustra del terrazzo con l'intenzione di togliersi la vita. Forse per l'istinto di sopravvivenza o per un ripensamento, ha poi tentato di risalire e ha cominciato a gridare aiuto. I vicini di casa, che hanno allertato i soccorsi, purtroppo non sono riusciti ad aiutarlo ed hanno assistito attoniti alla caduta dell'uomo. Per il 48enne, originario di Ariano Irpino, in Campania, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri di Fano. C'è una parola che fino a qualche mese fa era completamente sconosciuta e più, ovvero la parola è droplet. Sono in sostanza quelle goccioline che escono dalla nostra bocca e che se infette ed entrano nelle altre persone le infettano. Ora, è chiaro a tutti che, secondo quanto stabilito dai massimi esperti, per essere al sicuro bisogna almeno stare ad un metro di distanza. Ma questa regola vale anche quando si corre e si fanno altre attività? Vediamo il prossimo servizio e cerchiamo di capire come stanno le cose. Ciò che abbiamo imparato a conoscere con la brutta forma di distanziamento sociale, ma che in realtà, come più volte detto dall'Accademia della Crusca, bisognerebbe chiamare nel giusto modo, ovvero distanziamento fisico, lo dovremmo perpetrare, così come le mascherine, anche nella cosiddetta fase 2, a meno che non vogliamo ritrovarci in situazioni ancora peggiori rispetto a quelle attuali. Durante i primi giorni dall'emanazione delle disposizioni del governo che incidevano così pesantemente sulle nostre libertà individuali, ciò che ha trovato maggiori resistenze? L'impossibilità di praticare corsa all'aperto uscita in bicicletta, con fegato amaro di runner cicloamatori. E come per altre situazioni sono i social che ci hanno rifilato da parte di questi infaticabili atleti che stavano preparando la maratona della vita o la gran fondo con prosciutto finale, le più astruse scuse. Io corro da solo, vado in campagna, in mezzo a un bosco, non incontro nessuno, parto alle 3 del mattino e ritorno all'alba e potremmo andare avanti così per ore. Ma un motivo, e anche scientifico, se questo stop all'attività fisica è stato dato, anche in solitaria c'è e lo dimostra la scienza. Innanzitutto perché nessuno di noi si può dire sano esistono gli asintomatici anche tra gli atleti o i fisicamente preparati. In più, il motivo è stato anche dato dagli esperti con uno studio scientifico pubblicato recentemente dai ricercatori dell'Università di Eindhoven in Olanda e dal Dipartimento di Tecnologia del Belgio sulla diffusione del virus attraverso le goccioline di saliva in base alla velocità della persona. Da fermi, le goccioline di saliva droplet possono arrivare fino a un metro e mezzo, ma se uno cammina normalmente, alla velocità più o meno di 4 chilometri all'ora, la distanza minima di sicurezza da tenere è di almeno 5 metri. Per chi corre invece si arriva alla distanza di 10 metri. Per chi corre, e quindi va a una velocità di almeno 14 chilometri all'ora, si arriva ad una distanza di 10 metri. Peggio ancora, se si va in bicicletta, dove la distanza consigliata, dicono i ricercatori, è di almeno 20 metri. Questo studio sarà molto utile quando potremo uscire di casa, non solo per chi corre o va in bicicletta, ma soprattutto per chi cammina per strada e va a fare la spesa. Quindi manteniamo le distanze giuste e indossiamo le mascherine. E continuano senza sosta i controlli delle forze dell'ordine nel Pesarese. Ieri sono stati multati 15 trasgressori a fronte di oltre 500 controlli. Più di 400 invece sono stati quelli eseguiti negli esercizi commerciali, dai quali però non sono emerse irregolarità. E a Colli Almetauro oggi sono arrivati due infermieri albanesi. Prenderanno servizio nella casa di riposo, in cui hanno perso la vita 12 anziani a causa del virus. Dopo l'infermiere che aveva preso servizio nei giorni scorsi, alla casa di riposo di Saltara arriveranno altri due operatori albanesi. Atterrati ieri sera all'aeroporto di Roma, sono stati accompagnati oggi a Colli Almetauro e presto affiancheranno il personale della struttura. Il sindaco Stefano Guzzi aveva chiesto più volte un intervento immediato a sostegno della casa di riposo gestita dalle suore adoratrici del sangue di Cristo. Sindaco, nella struttura ad oggi quanti decessi si sono registrati a causa del coronavirus? Attualmente 12 decessi purtroppo. Tutti quanti ricoverati a Pesaro e vengono a mancare, sono venuti a mancare in diversi giorni già dalla settimana scorsa. Purtroppo siamo a 12 anziani. Ecco, più volte lei ha fatto presente anche la grave carenza del personale sanitario, medici e infermieri, giusto? Sì, lì è avvenuto tutto dopo la metà di marzo. Io sinceramente speravo che la cosa non dovesse avvenire perché lì è un istituto gestito da suore privato e loro avevano chiuso tutto alle visite, eccetera. Si erano completamente isolati fin dalla fine di febbraio. Speravo che questo non dovesse accadere e purtroppo invece poi il virus in qualche modo è entrato. Da quel momento ci sono state tutta una serie di ricoveri. purtroppo ci sono malati anche alcuni operatori. Di conseguenza è stata una fase fino a una settimana fa molto drammatica perché proprio c'era carenza di personale. Adesso da mercoledì scorso è arrivato su mia richiesta, ma anche su richiesta ovviamente dell'istituto stesso, un operatore, uno infermiere mandato dalla Croce Rossa che è arrivato da Caserta e che noi ospitiamo come amministrazione comunale a Calcinelli. Da stanotte sono arrivati altri due infermieri dall'Albania tramite la protezione civile. Non hanno, credo, ancora in queste ore preso il processo del posto di lavoro, ma sono già arrivati, anche questi sono ospitati da noi sempre in un agriturismo a Calcinelli. Io ho scritto più volte, ho scritto molte volte all'Asur chiedendo i tamponi, chiedendo il personale, chiedendo attenzione e devo dire che l'Asur ha fatto più volte dei sopralluoghi, ha dato delle indicazioni su come dividere gli spazi all'interno. Diciamo che c'è stata un'attenzione dall'Asur dopo che io con forza l'ho richiesta e portata avanti. In generale invece qual è la situazione a Colli al Metauro? Colli al Metauro, la situazione nel territorio è più o meno al pari di tante altre realtà. Ci sono attualmente una serie di casi, ci sono diversi guariti, ma devo dire che ci sono anche alcuni casi nuovi, proprio degli ultimi giorni. Quindi non è qualcosa da sottovalutare, non è il momento di abbassare la guardia. Ci sono una serie di positivi. Fortunatamente non ci sono attualmente casi gravi, gravi nel senso in pericolo di vita. Ovviamente, escludendo la casa di riposo, lì la situazione, come sappiamo, è più drammatica. Ci sono ancora persone ospedalizzate, abbastanza gravi, in maniera seria. Speriamo che non avvengano altri decessi. Il territorio invece è abbastanza sotto controllo, grazie al lavoro anche dei medici di famiglia, di che monitora continuamente la situazione. E sempre Colli al Metauro, per far fronte ad un'altra emergenza, questa volta però di tipo economico, sono stati consegnati 250 buoni spesa per un totale di oltre 66 mila euro. Nei prossimi giorni uscirà un bando per coloro che sono in difficoltà nei pagamenti di bollette di utenze domestiche e verranno acquistate 12 mila mascherine da distribuire ai cittadini già dalla prossima settimana. Purtroppo, ha detto il sindaco di Colli al Metauro, Stefano Guzzi, le richieste di aiuto da parte di famiglie e imprenditori sono tante. Chi volesse aiutare il Comune può contribuire mediante bonifico bancario con le causali a favore della protezione civile o per buoni spesa all'indirizzo e all'Iban che vedete in sovraimpressione. La prossima settimana invece tornerà a riunirsi a Fano il Consiglio Comunale, ma il capogruppo della Lega, Luca Serfilippi, critica la scelta degli argomenti messi all'ordine del giorno e chiede di parlare anche dell'emergenza coronavirus. Sì, purtroppo abbiamo constatato come noi dell'opposizione che comunque abbiamo sempre tenuto un comportamento collaborativo in questo mese e siamo stati lasciati da parte, ovvero le interrogazioni e le emozioni che abbiamo presentato in queste settimane non sono state minimamente inserite all'interno dell'ordine del giorno, ma si è data preferenza a tante delibere che ci rendiamo conto, il livello di bilancio devono essere approvate, ma a nostro avviso era importante parlare innanzitutto dell'emergenza coronavirus, quindi partire anche dalle linee di indirizzo che questa amministrazione vuole portare avanti, ad esempio per la tassazione locale e per la ripartenza, perché noi non sappiamo nulla. Quindi insomma criticate le scelte in questo caso della Presidente Cecchietelli. Sì esatto, noi abbiamo anche per quanto riguarda ad esempio la problematica delle mascherine abbiamo presentato anche oggi un'altra interrogazione perché non siamo stati minimamente coinvolti e riteniamo veramente dannoso quello che è stato fatto, cioè creare assemblamenti al CODMA con grandi problematiche da parte degli anziani, cioè non possiamo definire l'emergenza perché abbiamo avuto due mesi di tempo per provare a organizzare la ripartenza e quindi anche la distribuzione delle mascherine. La maggioranza avete detto mette quindi un bavaglio all'opposizione? Sì, a nostro avviso è prioritario sicuramente dare una risposta sull'emergenza coronavirus quindi con le linee di indirizzo e rispettare il regolamento che prevede le interrogazioni e le emozioni un'ora e poi seguire tutte le varie delibere di bilancio che giustamente devono essere approvate. E per tutte quelle donne che sono in attesa di partorire che si trovano nella provincia di Peso Urbino che devono partorire nelle prossime settimane c'è una nota del primario dell'ospedale Santa Croce di Fano Claudio Cicoli nella quale si parla di elevata qualità e assistenza dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia primario che ribadisce attraverso questa nota che il reparto materno da un mese si concentrerà presso il presidio del Santa Croce in via transitoria. Il direttore rassicura che è garantita la presenza H24 di due medici e di due ostetriche riuscendo a garantire così l'ottimale alle donne anche in uno dei punti deboli della struttura ospedaliera. Vorrei garantire a tutte le pazienti dice ancora Cicoli che tutti i casi di emergenze sono risolvibili nel reparto di ostetricia di Fano così come abbiamo fatto in queste settimane. Si moltiplicano invece le iniziative di solidarietà a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica a Fano c'è un'associazione che distribuisce beni alimentari a chi è appunto in difficoltà. La solidarietà non si ferma anzi per Dumomia non si è mai fermata nata dalla volontà di aiutare le famiglie monogenitoriali dal 2015 ha deciso di sostenere tutti coloro che si trovano in difficoltà economica. L'opera dell'associazione si basa sul contributo quotidiano di aziende agricole o privati cittadini che donano generi alimentari come prodotti difettosi o in eccedenza e Dumomia provvede a distribuirli nelle case di chi ne ha fatto richiesta se rientra nei requisiti previsti. Il centro di raccolta si trova al CODMA di Rosciano a Fano. Facciamo parte del progetto Non Spreco insieme alla cooperativa Gelico e la Carità di Ossesana. Ogni settimana distribuiamo in beneficenza all'incirca 400 quintali di frutta e verdura. In situazione di non emergenza siamo qua il martedì e mercoledì. In questo periodo di emergenza abbiamo cercato di raggiungere comunque le nostre famiglie attraverso un progetto chiamato Domomia emergenza dove portiamo a domicilio i pacchi alimentari e la frutta proprio per evitare gli spostamenti e tutelare sia le famiglie che i volontari. Ad oggi sono 25 i volontari di Domomia che si alternano per sostenere oltre 860 famiglie di cui 346 di Fano e oltre 500 residenti in altri comuni della provincia di Pesero Urbino. A beneficiare di beni di prima necessità sono anche diverse associazioni marchigiane. Con loro abbiamo rapporti anche di scambio di beni di prima necessità proprio per arrivare a dare alle famiglie ciò che magari noi non riusciamo loro ci portano il latte il pane, il formaggio e facciamo uno scambio ecco, un baratto di alimenti di prima necessità. Con loro abbiamo rapporti anche di scambio di beni di prima necessità proprio per arrivare a dare alle famiglie ciò che magari noi non riusciamo Loro ci portano il latte, il pane, il formaggio e facciamo uno scambio, ecco, un baratto di alimenti di prima necessità. Sempre in situazioni di normalità per poter sostituire del banco alimentare chiediamo un'ISA inferiore a 6.000 euro che è quello standard che ci chiede appunto il banco. Chi invece ha difficoltà e quindi ha unISA più alto che arriva fino ai 9.000 euro comunque fa richiesta a noi e noi riusciamo a fornire a loro comunque la frutta e la verdura. Volevo ringraziare tutti coloro, aziende, privati, associazioni che comunque ci hanno sostenuto e continuano a sostenere il progetto di Domomia Emergenza. Grazie mille. E dopo le polemiche di ieri sulle difficoltà nel contattare il numero telefonico messo a disposizione dalla Protezione Civile per le mascherine gratuite, oggi è intervenuta la CISL di Fano. Il sindacato chiede al sindaco Massimo Seri e all'assessore Tinti di intervenire per cambiare le modalità di distribuzione. La consegna, secondo la CISL, dovrebbe avvenire tramite le farmacie della città, con il supporto delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di volontariato per prontare i dispositivi di protezione. Intanto oggi, fa sapere sempre la protezione civile di Fano, sono state consegnate al Codma di Rusciano 690 mascherine, mentre 111 sono state portate direttamente a casa. Infine sono stati distribuiti dai volontari 10 pasti ad altrettante persone in difficoltà e consegnate 10 buste spesa a domicilio. Attraccherà nei prossimi giorni, invece, al porto di Ancona la nave Costa Magica, con a bordo il solo equipaggio, composto da 617 persone, che senza entrare in città né avere alcun contatto con le persone presenti a vario titolo all'interno dello scalo dorico, saranno fatte sbarcare con le condizioni e i percorsi di massima sicurezza sanitaria per raggiungere le proprie destinazioni di residenza. Lo annuncia la sindaca Valeria Mancinelli, che è stata informata dal ministro alle infrastrutture Paola De Micheli, insieme al presidente della regione Luca Ceriscioli. I controlli sanitari saranno effettuati a bordo prima dello sbarco e saranno attuati protocolli di massima sicurezza, come già fatto negli altri porti italiani e secondo quanto assicurato dal ministro stesso. Ho chiesto e ottenuto tutte le massime rassicurazioni sull'operazione e le condizioni di sicurezza per la città, ha concluso la Mancinelli. E adesso siamo arrivati quasi in fondo alla nostra scaletta e anche questa sera vogliamo fare gli auguri in modo particolare a due persone speciali, a due giovanissimi. Sono Cristian e Cristel, due gemellini di Marotta, che oggi compiono 11 anni e che hanno festeggiato ovviamente in casa anche loro. Gli auguri sono della mamma Silvia e ovviamente tutta la famiglia ai quali ci uniamo anche noi di Fano TV. Questa era l'ultima notizia, però chiudiamo il telegiornale presentandovi un video, un video realizzato dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano e che ha avviato una campagna di comunicazione per tutelare le donne vittime di violenza domestica costrette a restare in casa in questo momento di emergenza sanitaria. Al video hanno preso parte tutte le figure istituzionali, tra cui anche il sindaco, l'assessore alle pari opportunità, i gruppi consigliari e l'intera giunta che ricordano tutti i servizi della rete antiviolenza attivi nonostante il coronavirus. L'informazione termina qui. Grazie come sempre per averci seguito. Vi do appuntamento domani mattina alle 7.45 circa, al termine della messa indiretta dalla Cappella di Santa Marta con il Papa. L'appuntamento è per domani, con occhio ai giornali. Arrivederci. Mi rivolgo a tutte le donne che in questo momento stanno vivendo una situazione di violenza domestica, perché l'emergenza sanitaria non ha cancellato il vostro diritto di essere tutelate ed ascoltate. Se sei vittima di violenza domestica, anche in questo momento di emergenza il centro antiviolenza è aperto. Chiama il 1522 oppure lo 0721 63 90 14. Noi siamo al tuo fianco. Fano per le donne. Se sei in pericolo, chiama il 112 o il 113. Le forze dell'ordine sono pronte di intervenire anche in questo momento di emergenza. Esiste un luogo sicuro in cui puoi essere immediatamente trasferita anche con i tuoi figli. Contatta la rete antiviolenza. Chiama il 1522 o il 112 o il 113. Noi siamo al tuo fianco. Fano per le donne. Noi… Noi nemmeno… Grazie a tutti